Ciao da Max, venite a vedere che bella coltivazione ho di mele, vieni avanti, fai vedere questa bella mela, vieni avanti, vedi la da vicino, così almeno la possono vedere, vedete? Queste sono le mie mele, questi sono prodotti naturali trattati solamente con letame e tanto amore dei padroni di casa, perché noi non diamo nessun prodotto alle piante, in quanto che se io devo dare il veleno, poi quel veleno me lo mangio io e guardate, una mela su 10 è buona, le altre no, vorrà dire che io faccio in società con gli animali, qui ci sono i vermi, ci sono le lumache, qui ci sono degli afidi, guarda qui ci sono dei lumachini che mi mangiano le foglie, non c'è problema, c'è la frutta anche per loro, ma se voi prendete la frutta, quella che dicono naturale, la dovete prendere che sia tarlata, che abbia l'animale dentro, perché se c'è il bagigio vuol dire che non c'è nessun tipo di veleno, quella è la frutta naturale, quelli che dicono invece culture biologiche sono tutte cazzate, perché cosa fanno? Per far sì che gli insetti e gli animali non vadano a danneggiare il frutto, i veleni glieli danno lo stesso, ma poi mettono degli emettitori oltrasuoni, delle emissioni radio, perciò la frutta diventa bella, non ha il veleno, però è radioattiva, andate a fa un culo, qui quando prendete una mela, guarda, voi prendete una mela, c'è un animale dentro, prendete il coltello, la ripulite e la mangiate, questa è roba naturale, ci si dà l'etame di stalla, si vanga la terra e basta, e quel buon Dio che ci manda, quello prendiamo, ciao bastardi, mangiate naturale e quando andate a comprare la roba, voi vi guardate ci sono le mele tutte uguali, ma in natura noi siamo tutti uguali, c'è uno più alto, uno più basso, prendete dove conoscete, dove vi fidate, dal vostro contadino vicino a casa, vedrete che imparerete anche a stare meglio, ciao bastardi, ah e poi la frutta, lo sapete cosa fa? Fa cagare, andate tutti a cagare, ciao bastardi da Max, aspetta, senti qua che rumore, senti che rumore, è andata la batteria, ciao bastardi,